benvenuti al videocorso jombla e k2 in questo videocorso parleremo di un plugin di un'estensione per jombla che si chiama k2 e questa estensione modifica anzi sostituisce delle funzionalità di jombla e ne aggiunge delle altre io non mi soffermerò tanto su jombla in questo videocorso quindi i prerequisiti sono conoscere un po jombla più che altro mi soffermerò sul plugin k2 eccolo a proposito ma comunque farò vedere come installare jombla come installare il plugin vedrete tutto sullo schermo diciamo si partirà da zero infatti partiamo scaricando jombla da jombla.it nel menu dobbiamo cliccare su download e a proposito io userò la versione di jombla 1.5 che si dice che è vecchia ormai ma il plugin k2 è stabile per jombla 1.5 mentre è in elaborazione per jombla 1.6 1.7 quindi andiamo a scaricare vecchia versione jombla 1.5 vecchia ma buona direi io e quindi scarichiamo ok e andiamo a scaricare il plugin il componente k2 download k2 sul sito get k2.org jombla 1.5 si dice vecchio ma comunque è molto stabile e molto buono anche se l'1.7 non è per niente male sono state migliorate delle cose soprattutto per la ricerca ma vi dico che anche l'1.5 è molto usato certa gente non pensa neanche di andare sull'1.7 quindi mentre si sta scaricando jombla andiamo anche scaricare il plugin cioè no il componente l'abbiamo già scaricato dobbiamo scaricare la lingua italiana e dobbiamo andare sempre in downloads mi sembra facciamo una ricerca facciamo una ricerca scriviamo k2 non troviamo niente molto male torniamo sulla home e forse da qui in questo menu troviamo qualcosa download community jombla 1.5 componenti plugin nativi allora file lingua componenti nel menu dell'indice download traduzione ma noi siamo finiti in jombla 1.6 e 1.7 per qualche motivo mentre 1.5 ah ecco in questo menu indice del download andiamo in jombla 1.5 file lingua componenti così dovremmo esserci eccolo k2 pacchetto lingua italiana abbiamo trovato sulla seconda pagina dopo naturalmente se non avete voglia di cercare tutti questi file io metterò i link anzi un archivio con tutti questi file sul sito dove state guardando questo videocorso che potrà essere obif.it oppure anche su youtube ci sarà il link per il download quindi non vi dovrete sbattere tanto come me a posto i file che ci servivano come li abbiamo scaricati potete cercarvi un template per il sito un po' carino un po' più carino vediamo cosa c'è questo è un animale io adesso metto in pausa scarico un template sempre da jombla.it voi lo avrete nell'archivio quindi tranquilli ok ho scaricato il template che mi è piaciuto jungle e ho già aperto la cartella download e adesso vado ad aprire anzi faccio partire vertrigo servo apro la cartella www.folder e creo qua una cartellina per il nostro sito e chiamerò il sito geomla k2 poca fantasia ho ok adesso devo spostare in questa cartella il mio geomla ita stable quindi impossibile aprire bello molto bello la cartella è danneggiata benissimo benissimo ok ho riscaricato un'altra volta il file stavolta il file si apre io uso come programma di archivi come per gli archivi uso 7zip è open source potete scaricarvelo 7zip eccolo qui www.7zip.org 7zip e scaricate questa versione in exe e installatelo e poi qui dobbiamo selezionare tutti i file con ctrl a e fare estrai andare in risorse del computer disco locale c programmi vertrigo serve www johnla k2 spingere ok e tutti i file vengono estratti là a questo punto concludo questa lezione introduttiva nella prossima vediamo di installare johnla e il plugin del componente k2 arrivo guido 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 onna